Il PUAD, piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, è una misura approvata a dicembre dalla giunta regionale che rischia fortemente di ridurre le già esigue spiagge libere della campagna e la poca tutela di tutto l'ecosistema marino costiero. Lo hanno sostenuto Lega Ambiente, Conamal e il WWF con un presidio davanti Palazzo Santa Lucia a Napoli. Preoccupa il poco interesse per la salute delle coste e il continuo calo della fruizione delle aree di balneazione. In particolare le associazioni ambientaliste criticano aspramente l'articolo 3 del PUAD che individua nel 30% la percentuale di un'area di balneazione utilizzabile in modo libero e gratuito. Il coordinamento nazionale mare libero e Lega Ambiente chiedono insieme espressamente il 50% e l'abbattimento di costi assurdi solo per potersi fare un bagno in mare. Sentiamo Francesca Ferro, direttore di Lega Ambiente Campania e il presidente di WWF Napoli Franco Marino. Ci preoccupa che la risorsa mare continui ad essere per pochi e che quindi la fruizione sia davvero limitata a pochi ma soprattutto che non si prende in considerazione la costa e lo stato delle coste nei suoi aspetti più vari. Noi come tante altre associazioni entro i termini del 6 marzo abbiamo presentato le osservazioni a questa proposta di PUAD sperando che innanzitutto venga rivisto complessivamente perché mancano i requisiti essenziali cioè la procedura di VAS di valutazione ambientale strategica. Sul PUAD faremo battaglia, rimarca fortemente la consigliere del gruppo misto Maria Muscarà. Il piano verrà portato in consiglio, spero corretto con le osservazioni che sono state presentate ieri e faremo battaglia, anzi farò battaglia.